amici di 9000 giri bentornati e bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive oggi vi presentiamo una golf un lavoro analogo a quello che abbiamo fatto precedentemente su una scirocco delle settimane scorse in questo caso una golf non recentissima una golf serie 7 quindi due serie fa adesso siamo arrivati alla 8 prima della 8 c'era la 7.5 e questa era la golf diciamo precedente quindi tre serie fa però ne hanno vendute talmente tante che per fortuna nostra ce ne sono ancora moltissime in giro sulle quali ci richiedono di fare determinati tipi di lavoro in questo caso c'è stato richiesto di fare uno stage 1 completo motore successivamente i lavori che abbiamo terminato andrà in carrozzeria perché deve essere sistemata in tante parti perché è una macchina che noi consideriamo vissuta nel senso una macchina è stata usata in maniera abbastanza consistente dobbiamo fare una revisione del cambio automatico perché ha qualche problema sul cambio automatico ma soprattutto di carrozzeria deve essere ripresa nella parte laterale i fari la parte posteriore comunque per il momento quello che ci è stato affidato dal cliente come dicevo è lo stage 1 completo lo stage 1 come ho spiegato tante volte è composto da questa 1.4 benzina quindi include anche lo scarico se viceversa fosse stato un diesel veniva escluso lo scarico perché sui diesel non dà nessuna efficacia alla modifica dello scarico quindi in questo caso siamo partiti con la parte elettronica centralina elettronica e qui è una centralina particolare che non si può riprogrammare via seriale ma bisogna smontarla e farla a banco quindi è stata smontata quindi sono stati modificati i parametri e le curve quindi avremo delle curve di coppia potenza migliorate rispetto a quelle precedenti noi come spesso diciamo non facciamo mai elaborazioni troppo tirate per non avere poi problematiche con altre parti meccaniche della macchina una mappa di questo genere sostanzialmente portiamo la macchina da 122 cavalli vicino ai 150 148 cioè 150 oltre i quali non ha molto senso soprattutto su macchine che hanno un bel po di chilometri quindi parte elettronica è il cuore del sistema diciamo che come periferiche laterali a questo punto abbiamo montato lo scarico della super sprint adesso andiamo nella parte posteriore qui abbiamo a vista si vedono questo è un duplex questi sono i pezzi diciamo originali quindi come abbiamo spiegato tante volte questa macchina di serie ha un silenziatore centrale che quel bombolotto che vedete lì bello grosso e un posteriore anche in questo caso nella parte di serie aveva l'uscita solo laterale sinistra doppia in questo caso abbiamo fatto la modifica si chiama duplex con l'uscita destra e sinistra andrà poi sostituita la bandella una volta che verrà fatta la parte di carrozzeria è inutile andare a fare modifiche su questa verrà poi montata la bandella del gti che avrà le due asole destra e sinistra per contenere perfettamente le due uscite come ho specificato tante volte è uno scarico completamente omologato quantomeno nella parte posteriore avendo tolto un silenziatore e avendone ridotto un altro abbiamo raggiunto quel giusto grado di rumorosità quindi non è eccessivamente rumorosa ma è rumorosa il giusto quindi quello che a noi richiedono è proprio fare una cosa fatta bene ma non eccessiva quindi questa è la seconda parte dello stage 1 la terza parte è toccare l'aspirazione in questo caso abbiamo sostituito la cartuccia del filtro aria che per l'altro era anche bella sporca e da da sostituire in ogni caso con un filtro della bm 5 tonnellavabile sperando che il cliente abbia cura di fare una manutenzione regolare pulendola con i prodotti e l'ultima cosa che abbiamo fatto è montare in abbinamento al discorso della centralina il sistema elettronico pedal booster che come ho spiegato tante volte è un sistema che intercetta il segnale di risposta o la reattività di risposta del pedale acceleratore toglie il buco in partenza e quindi la macchina diventa soprattutto dove viene usato molto il cambio e l'acceleratore diventa molto più brillante e molto più fluida questo componente non da cavalli perché i cavalli li forniamo con la riprogrammazione elettronica però è molto efficace per togliere questo buco in maniera particolare noi lo consigliamo a parte su tutte le macchine perché veramente abbiamo un riscontro molto positivo ma in maniera particolare su alcune macchine dove parliamo delle aspirate dove ci richiedono spesso di intervenire e dove noi tante volte sconsigliamo di andare a fare lavori di elettronica perché dal nostro punto di vista e con dati veritieri alla mano gli incrementi sono veramente molto modesti montando un sistema di questo genere la differenza c'è ed è molto sensibile la macchina cala meno di giri avendo meno il buco su macchine appunto soprattutto per i neopatentati che sono addirittura quasi imbarazzanti come tipo di utilizzo il pedal booster ci ha risolto un sacco di problemi quindi con poca spesa abbiamo veramente reso contenti tanti clienti per il momento è tutto aspettiamo che appunto il cliente finisca tutta la parte di carrozzeria e il sistemare la parte del cambio automatico vi invitiamo come dico spesso a sostenere il nostro canale perché sta andando molto bene abbiamo bisogno del vostro sostegno anche commentandolo e avendo un'interazione con voi riusciamo anche a migliorare quindi cliccate sulla campanella iscrivetevi andate a consultare il nostro sito www.9milagiri.it soprattutto nella parte archivio elaborazione dove troverete più di 3500 schede vettura chiamateci al telefono 027383175 io sono sempre lì ad aspettarvi un saluto alla prossima ciao grazie a tutti